Grazie Presidente. E anche di riferimento a questo argomento, stamattina, da un confronto con un po' di consigliere, abbiamo praticamente preparato lo schema di delibera che io vi tengo opportuno leggere, in riferimento a quanto accade da un po' di anni a questa parte sul nostro territorio, situazione che purtroppo, anche in considerazione delle condizioni climatiche, sicuramente fuori stagione, in questi giorni, sta determinando, continua a determinare, anche se a strazi in alcuni momenti della giornata, problemi. E comunque, diciamo, da parte della cittadinanza, giustamente, la mettete per una serie di emissioni odorigine che, praticamente, rendono invidibile l'aria della nostra città. Noi abbiamo, questa mattina, guardato anche quello che è accaduto, che è stato fatto in altri comuni, e quindi è stato predisposto a questo schema di delibera che io inviteria votare, diciamo, in questa seduta, dopo la discussione, anche perché a questo schema di delibera seguono degli atti da parte della Giunta e poi dei dirigenti funzionari che il tempo debbano essere fatti nell'immediato, appunto, per rendere operativo, non soltanto teorico, questa nostra discussione, questo nostro deliberato. Io vi dico che sia doveroso leggerlo, perché lo abbiamo preparato questa mattina. Allora, il Consiglio Comunale, visto e richiamato il testo della proposta numero 74 del 26 settembre 2013, considerato che nel corso degli anni, in modo particolare, durante la stagione estiva, giungono numerose e liberate proteste degli abitanti di Lucera, circa di ripetersi di fenomeni ad origini particolarmente intensi e fastidiosi, in modo particolare durante la stagione estiva, provocando malessere e disagio nella popolazione. Considerato che per intraprendere qualsiasi iniziativa è necessario verificare, con dati oggettivi, quale sia la natura e l'origine di dette missioni. Ritenuto che sia doveroso dare risposta alle legittime istanze della popolazione. Ritenuto altresì che prima di investire le autorità competenti per i provvedimenti del caso, o intraprendere qualsiasi azione, è necessario disporre di una base di dati scientifici, estisa su un ampio intervallo temporale, in modo da caratterizzare con sufficiente attendibilità il fenomeno, soprattutto in ordine all'accertamento delle responsabilità dell'eccisione d'origine. Visto che il 30 settembre 2013 è stata acquisita il protocollo generale numero 42628, la relazione tecnica sui fenomeni d'origine vedata dall'ARPA di Fari, avendo ad oggetto stabilimento bioequagri S2L. Vista attresita molto al protocollo numero 45183 del 15 ottobre, prodotta dalla società bioequagri avendo ad oggetto osservazioni e contestazioni sulla relazione tecnica ridata dall'ARPA, ritenuta l'opportunità da parte del Comune di Lucera di dotarsi dell'apprecchiatura naso-elettronico, ritenuta l'opportunità di rivolgersi all'ARPA Puglia per l'indagine atta a rilevare, di individuare, le ponti della puzza naso-a-ponta che investe il territorio comunale ed è causa dei molesti e di malore della cittadinanza truffa, tramite l'utilizzo e l'installazione del naso-elettronico nei punti del territorio in cui è più un naso-a-ponto-l'odore, ritenendo che l'ARPA sia già in possesso dell'apparato e sia dotata dalle necessarie professionalità, altre funzionamenti e certificazioni dei dati, considerata altresì l'opportunità di predisporre un apposito protocollo d'intesa tra il Comune di Lucera e l'ARPA, per disciplinare i reciproci diritti e doveri tra le diverse istituzioni, così come è accaduto in altre realtà nazionali. Considerata altresì l'opportunità di prevedere l'eventuale affidamento in gestione a terzi nel caso in cui l'ARPA conclami la sua indisponibilità all'effettuazione delle migliorazioni ad origine pre-acquisizione del naso-elettronico. Ritenuto dover, con il presente provvedimento, esprimere la posizione dell'intero consenso, atto a cercare di individuare e eliminare lo sgradevole caso a fondo d'odore che investe il territorio comunale, causando malessere e disagio in vera collettività. delibera 1. Di investire nella problematica dei naso-eventuali e odori che sistematicamente si sentono nel territorio comunale in modo più impegnabile, l'Agenzia regionale per la prevenzione e la protezione dell'ambiente AARPA Puglia, con sete legali in pari, in corso Trieste-Sumo-27, è diputata alla produzione dell'ambiente dell'intero e del territorio regionale, tramite l'utilizzo e l'installazione del naso-elettronico nel punto del territorio in cui è più naso a fondo d'odore, nell'ipotesi in cui l'AARPA si è già in possesso dell'apparato, è fermo l'estampo che la stessa ARPA è dotata delle necessarie professionalità attra al funzionamento e certificazione dei dati. I DARE parlo dal Sindaco di provvedere all'adozione dei provvedimenti necessari per l'acquisto di una centralina di monitoraggio dell'emissione d'origine, altrimenti nota come naso-elettronico, da installarsi permanentemente nell'abitato di Lucena, allo scopo di individuare con oggettività l'origine e la natura dell'emissione d'origine, da consegnare all'ARPA che è dotato dal personale abitato al funzionamento e certificazione dei dati che risulteranno, di dare in carico alla giunta di formulare atto di indirizzo al dirigente e o funzionario del servizio ambiente preposto affinché provvede alla redazione di apposito protocollo di inglese tra il comune di Lucena e l'ARPA per disciplinare il ciclo e i diritti dove erano le diverse istituzioni, di dare in carico alla giunta, di formulare atto di indirizzo al dirigente o funzionario del servizio ambiente, di segnalare puntualmente all'ARPA anche con l'email la data dell'ora in cui viene percepita la presenza di vicino d'origine nell'abitato di Lucena. Di provvedere, qualora l'ARPA non sia disponibile a gestire l'apparato elettronico con il proprio personale all'affidamento di gestione a terzi muniti delle necessarie professionalità, di rimettere il presentato all'ARPA Puglia alla regione Puglia e all'Ambiente, alla provincia di Foggia e all'Ambiente e dopo le pubbliche alla direzione generale dell'ASLA. Questa è la proposta di lì. Grazie Presidente. Grazie Presidente.